da parte mia troverà la massima sanità e tranquillità, capisco il dolore può avere molta irrabbia di nervosismo, è legittimo, da parte mia troverà la massima tranquillità. Signor Presidente, io così non posso consentire che vada avanti, se lei ha bisogno oppure possiamo anche sospendere per qualche minuto, lei è chiamato, questo lo vedremo e lo deciderà la Corte, chi mente e chi dice la verità, lei non può permettersi queste reazioni, sospendiamo l'udienza per 10 minuti, accompagnate, allontanate.